Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio Continuiamo subito con Final Fantasy Type 0 Dove avendo salvato nello scorso episodio Siamo arrivati all'ultimo capitolo Per cui ci stiamo avvicinando alla fine effettivamente della storia Allora cominciamo a prendere queste piastrine di riconoscimento Ed ora capisco il perché non potevo tornare indietro In maniera normale Ci sarebbe quello Guerriero Russus, oddio E' il caos Rivelarono Addossarono alla classe 0 la caduta Oddio Ora gliela accollano tutte alla classe 0 Adesso sembrano esserci di nuovo tutte le zone disponibili Però ecco la piastrina Ecco vedete adesso il gioco sta iniziando a prendere una piega interessante Peccato che la sta prendendo all'ultimo capitolo E la cosa sinceramente non è che Mi entusiasmi più di tanto Ecco qua ci sono altre piastrine Io cerco di prenderle tutte perché non vorrei che magari l'Handgame Plus Possa comunque consegnare queste piastrine di riconoscimento Anche se Non so fino a che punto Qua c'era l'arena E quindi adesso tecnicamente non si può andare neanche verso l'arena Controlliamo bene se qua ci sono piastrine Ecco filmato Chi è questo folle Qua c'era l'ora Grazie a tutti Io innanzitutto salvo E salvo su un altro blocco E adesso vediamo che cosa sta succedendo Allora 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 No Allora 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 Wow Wow, cioè quindi decido io il finale? Quindi di riscrivere le pagine Beh qui nell'academia penso non ci sia più niente da fare perché non puoi oggettivamente fare nulla è tutto distrutto Ah ecco vedi qua posso dare le piastrine La pedala non funziona più Qua ci possiamo entrare? Sì No questo non mi interessa Qua non c'è nessuno con cui parlare per cui Andiamo a vedere nella sala Perché a quanto pare anche i membri del consiglio se ne sono andati sono scappati tutti E raccogliere il loro fantomo dopo averli sconfitti Oh Non c'è nessuno con cui parlare E non c'è nessuno con cui parlare E non c'è nessuno con cui parlare No c'è nessuno con cui parlare quindi adesso è tutto gameplay libero ora è figo il gioco che non c'è più il problema dell'orario che entro tutto il tempo devi essere di nuovo al comando ecco adesso è figo adesso è figa la situazione l'obiettivo però me lo dà ancora lì dentro perché ah obiettivo è figo il gioco 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 quindi devo tornare adesso nell'aula 0 immagino perchè se vuole discutere con noi qua c'è qualcosa ecco il pillo quando abbassa la guardia quindi fargli degli attacchi letali tecnicamente si infatti dobbiamo tornare nella stanza 0 eh la situazione si sta facendo interessante adesso però finalmente cioè il gioco sta prendendo una bella piega dov'essere onesto il gioco c'è un gioco Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Qualcosa nel latrio Eh la situazione si sta facendo Si sta facendo interessante L'atrio non è questo? Ah ecco Che... Chi sei? No E Sid come c'è andato? Se ci vuole un'elsea. Il ritorno vi sarà precluso. Sicuro di aver completato i preparativi, cioè quindi tecnicamente dovrei comprarmi di tutto e di più, pozioni, eteri, di tutto perché non recupero niente da solo. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Si può fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto. Grazie a tutti. Giudizio di... Sfida per... E... 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 Ok, adesso posso... Per... perché se... e... 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 Cacchio... Allora... anche se... e... Allora... 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 e...